Pallamano Lera Jung è iniziata, Puccio Argentino alla guida dell'Albatro dà il via agli allenamenti. Alla palestra a gradina Lera Jung è iniziata, il tecnico argentino è chiamato alla guida della squadra, dirige gli allenamenti della Team Network Albatro in vista della ripresa del campionato prevista per sabato 14 gennaio a Fasano. Tutti a disposizione del Puccio, questo è il soprannome che accompagna Rodolfo Jung nel mondo della Pallamano. Un primo impatto con il campionato italiano che ha comunque studiato grazie ai tanti video avvicinati prima del suo arrivo. C'è sicuramente qualche differenza nel gioco e nella struttura dei giocatori, afferma Jung. Qui sono forse più fisici, ma il livello non ha nulla da invidiare alle altre maggiori leghe europee. Il Puccio ritrova una squadra con molti giocatori di origine argentina. Il fatto che qui giochino molto argentino e tanti hanno giocato qui in passato è stato tra i motivi che mi ha spinto a venire a Siracusa, continua il tecnico. La loro presenza, almeno dall'inizio, mi faciliterà il lavoro. La possibilità di parlare anche nella mia lingua ci aiuterà. L'arrivo di Rodolfo Jung, così come detto sin dall'inizio, è un investimento per il futuro della Team Network Albatro. Il tecnico viene considerato uno dei guru della palla a mano giovanile e con l'Under 21 albiceleste ha ottenuto la qualificazione per i mondiali in programma nel prossimo mese di giugno in Grecia e Germania. Sin dal primo momento il direttore generale di Stefano mi ha detto che avremmo dovuto lavorare molto sui giovani con tira ancora Jung. La nostra intenzione è quella di farli crescere fino a raggiungere lo stesso livello degli stranieri in squadra. Sono loro l'investimento maggiore per affrontare al meglio le stagioni future già a partire dalla prossima. Infine l'appello ai tifosi. Da sempre valore e passione aggiuntive durante le partite. I tifosi devono stare accanto alla squadra e sostenerli soprattutto in casa, conclude. I ragazzi hanno bisogno di loro e può essere determinante in certi momenti. Grazie.